Ilaria Daghini di Desivero. Come la marketing automation ha migliorato il tasso di conversione a Desivero.com? Desivero.com è una start-up che è nata nel 2015 da un gruppo di professionisti del settore idrotermosanitario. Desivero rappresenta la strategia digitale del gruppo Clerici, gruppo leader italiano nel settore idrotermosanitario. Desivero offre ai propri clienti, che per il 90% dei casi sono utilizzatori finali, prodotti della categoria del riscaldamento, della climatizzazione e dell'arredo bagno. Per raggiungere utenti con particolari esigenze e necessità, Desivero ha iniziato a lavorare con un tool di marketing automation che li permettesse di migliorare le conversioni all'e-commerce e li permettesse di inviare delle comunicazioni one-to-one a seconda delle esigenze degli utenti. Definiamo con marketing automation l'invio di campagne automatizzate che vengono innescate tramite delle condizioni predefinite impostate in precedenza. Gli elementi che contraddistinguono l'email marketing dalla marketing automation sono essenzialmente il timing di invio e la personalizzazione dei contenuti. Tra le best practices di Desivero abbiamo la gestione del carrello abbandonato, in quanto due utenti su tre abbandonano il carrello prima di concludere l'acquisto ed è quindi bene e importante gestire gli utenti in questa fase del processo di acquisto. Per gestire gli utenti nel carrello abbandonato, Desivero ha realizzato un workflow costituito da due email inviate a distanza di cinque giorni. Entrambe le email hanno raggiunto ottime performance sia in termini di open rate, infatti hanno raggiunto un tasso maggiore del 50% e oltre i 250 sono gli acquisti registrati dopo aver cliccato ad una delle due mail.